Musica Innanzitutto è una grandissima emozione vedere una sala di un cinema pieno Musica Diego mi aveva proposto un film con un pagliaccio che metteva paura ma abbiamo pensato con Barbara che invece volevamo fare una commedia sentimentale Musica Credo che il lavoro sia stato molto ben fatto, un film veloce, un bel ritmo io sono felice anche come autore del libro, non solo come sceneggiatore Musica Una volta ho potuto raccontare i cavoli di quelli che litigano al tavolo accanto quando stai al ristorante Musica E' un film tra l'altro dove c'è molta musica, i musicisti sono stati tutti bravissimi Alan è stato generosissimo Alan Sorrento Musica Se vi è piaciuto raccontatelo a tutti, se non vi è piaciuto fatevi grazie i vostri Musica 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 Musica